Lavoro, ammortizzatori sociali, riforma complessiva del welfare, ma anche sostegno al credito per le piccole e medie imprese, aggregazione e internazionalizzazione. Sono stati questi i temi affrontati nel convegno sul lavoro dall'Italia dei Valori, che ha scelto la sede Eton di Massa per lanciare la sua campagna regionale. All'iniziativa erano presenti i lavoratori Eton e l'assessore alle politiche del lavoro Raffaele Parrini, che ha ricordato. La vicenda Eton è una vicenda da questo punto di vista che, come ho sempre sostenuto, creda vendetta. Dobbiamo dire con chiarezza che la vicenda della chiusura Eton non nasce per la crisi economica arrivata nel 2008, ma è stata una scelta precisa di questa multinazionale di abbandonare il territorio e i suoi lavoratori per logiche esclusive di profitto e logiche di delocalizzazione in altri paesi considerati più competitivi dal punto di vista del costo del lavoro. Credo che quando la politica a tutti i livelli si schiera a fianco dei lavoratori e dei loro problemi sia un fatto assolutamente positivo. Presente all'incontro anche Alessandra Tibaldi, responsabile crisi aziendale e welfare dell'Italia dei Valori. Il sostegno che è stato dato in questi mesi dall'Italia dei Valori sul territorio a massa, come a livello regionale e anche a livello nazionale dal Dipartimento Lavoro, non verrà a meno. Quindi affronteremo e cercheremo di seguire d'intesa con chi ha seguito sul territorio la vicenda tutte le evoluzioni legate al sito, alla destinazione del sito e siamo per una reindustrializzazione di quel sito chiaramente seria. E anche per cercare di capire come in prospettiva evitare che le multinazionali vengano sui territori, beneficino di contributi pubblici e poi mettano in piedi veri e propri saccheggi di risorse pubbliche, di saperi, perché il sapere di un lavoratore, delle loro famiglie è il sapere di una comunità locale intera e insomma possibilmente che paghino un dazio. Grazie a tutti.